invece è appartenuto alla vita di Costabile Carducci, che ci restituisce la prova assolutamente inconfutabile del ruolo primario che Costabile Carducci ha svolto non solo nell'ambito del 48 napoletano, ma nell'ambito del 48 nazionale. Vi è già stato ricordato che il 12 di gennaio del 1848 uno studente, Giuseppe Lacava, alza il tricolore nella piazza principale di Palermo e quella è la scintilla, tradizionalmente interpretata come la scintilla del 48 europeo. Sta di fatto che il 17 febbraio, con il proclama di Torchiara, Costabile Carducci dichiara la rivoluzione del Cilento, cioè induce il Cilento ad insorgere contro il Borbone. Ferdinando fino a quel punto coltivava ancora l'idea che essendo la rivolta siciliana materiata ed ispirata dai tradizionali sentimenti indipendistici, ricorderete i Vespri e via seguitando, tutto sommato era una cosa destinata ad essere contenuta nel perimetro dell'isola e non avrebbe dovuto trascorrere nel resto del regno, cioè varcare lo stretto. Quando insorge il Cilento, memore di ciò che era accaduto nel 1828, Ferdinando si preoccupa e il primo di febbraio, quando cioè Costabile Carducci, che muoveva da Torchiara, era già arrivato a Sanza, dove impatterà con i problemi delle terre demaniali davanti al fallimento delle leggi eversive della feudalità, quando però Costabile Carducci arriverà a Sanza, Ferdinando capisce che il Cilento è in mano alla rivolta e il primo febbraio concede la Costituzione, il 28 febbraio il granduca di Toscana, Leopoldo, si induce anch'esso a concedere la Costituzione, il 4 marzo Pio IX, il 14 marzo insorge Vienna, il 21 marzo, le 5 giornate di Milano, in mezzo c'è lo statuto concesso da Carlo Alberto. E allora voi vedete che non si tratta di un personaggio minore, si tratta di colui che ha guidato la rivolta del Cilento che, suo malgrado, indusse Ferdinando a concedere la Costituzione, innescando un meccanismo a cascata per cui deflagra tutto.